ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video oggi sia vi mostrerò il mio nuovo mondo di minecraft ovviamente notte si vabbè andiamoci a prima dormita ci riposiamo che vi faccio vedere il nuovo mondo ok sonnellino fatto andiamo a svegliare i villager che quelli non ci sentono stanno tutti dentro casa dovete svegliarvi allora non pensate che il mio vecchio mondo cioè the crafting world sono morto e sono dovuto respawnare ho trovato un villaggio no non è così mi sono creato un nuovo mondo dove ho trovato questo villaggio mi sembrava bello andarci ad abitare raga questo qua si chiama the crafting world 2.0 aspetta vi faccio vedere il mio personaggio come se faceva non ho capito come era acqua no vi volevo far vedere il mio personaggio come è fatto vabbè non ve lo faccio vedere sul vabbè questo è il mio personaggio si chiama matti gs allora matti come il mio nome e gs come giovani sfidanti le iniziali per ora c'ho solo un'armatura di cuoio ma la potenzierò prima o poi e prima o poi non si sa quando però scusate che non ho fatto video per molto tempo ma c'avevo una voce che c'è che ce l'ho mal di cuoio tremendo raga non potevo fare video c'era una voce davvero così ciao ragazzi così c'era ora capito guardate non è non hanno costruito tutto il villager per esempio prima vi faccio vedere a casa mia che io ho fregato a villager perché era la più grande che ho trovato ci ho aggiunto le casse la crafting table la fornace e i letti e le altre cose erano c'erano già poi io ho costruito vi faccio vedere un'altra cosa che ho costruito io la maggior parte hanno costruito i villager ma e alcune cose anch'io il nuovo craft shop craft shop 2.0 raga e dentro e dentro le casse e nel vecchio mondo c'era pochissima roba qua ce n'è di più qua ce n'è molta guardate e ok ci stanno pure le coltivazioni fighissime le mie c'erano due fiorellini e basta alla guaggia ho fatto un ponte della pesca e lì ho fatto un porto beh una barchetta con una bella barchettina saliamoci devo ancora imparare bene come e che cacchio come si si guidano le barchette perché non è che sono proprio un mastro di barche non manda non di là ti prego ti prego non bravo resta qua calma calma perfetto così e che cacchio abbiamo allontanato troppo raga ma ritroviamo non hanno di là di là di là non di qua oh raga dove fai no non andare di là non si vuole di là 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 di làensi e poi-de-la quantità Ok scendo Ok lo perché è già da bene Ok allora mo piove Dove posso andare? Vado a casa un attimo Mentre aspetto che Ritorna al sole Ci vale una notte intera Anzi vado a frega Qualcosa le case Vediamo se questo c'ha qualcosa Da scambiare Ma l'ho L'ammazzato come Giorgillager Ragamo di Giorgillager ce ne stanno 2000 A ognuno Credo che gli diamo il nome a ognuno Ma A qualcuno Aspetta è mio amico È mio amico che mi è stata È mio amico che mi stava a A telefona vabbè Noi giochiamo Oh E lo vedo in attimo Aspetta che Ok raga siamo tornati Qua che ci sta Non c'è niente Non c'è niente vero Eh infatti Qua non c'è niente Ho fatto sto ponte Perché mi volevo costruire una casa qui Però Ho visto che c'era una casa molto grande E là ho appiato Invece di sprecare i pezzi Per costruire una casa nuova Che quello sta a saltare Sta a fare la danza del sole La fa la danza del sole Fai smettere Piove Ah pensavo che c'era un burrone Comunque in questo villaggio Dei burroni Un paio ne ho visti Ecco tipo No non era qua Vabbè E Mo che famo raga Ecco Il burrone Uno dei burroni Stava Eccolo Io lo metto qua Visto raga Mo come ci risolga Spera un attimo Ok I soliti E Madonna raga Io in tutti sti giorni Ancora non c'ho fame Guardate La prendiamo un po' di ottaggi Per il nostro craft shop Andiamo a metterli nelle casse Ancora la voce Non l'ho recuperata proprio tutta Però c'è stamo No in questo negozio Non vendo terra Mi dispiace Ok Giungiamo lì qua C'è qualcos'altro Qua c'è una patata velenosa Non ci frega niente Quella c'è un mazzo Ok Oh my god raga Mi è sembrato Per un attimo Che stava a cascare il burrone Per un attimo Mi è sembrato Qua una mappa No non è che mi interessa Portare la mappa Ok ciao Basta questa terra Oggi è la giornata della terra Dai Dobbiamo aspettare fino a notte Che questo cosa smette di piove Oh raga Ragazzi è notte Qua la piove già non si nota Morto Va bene E allora ditemi se vi piace più Oh un gatto Vabbè ciao Ditemi se vi piace di più The crafting world O The crafting world 2.0 E allora Ciao e al prossimo video Ciao Aspetta aspetta Mi scordo sempre Mi scordo sempre Lasciate like Iscrivetevi al canale Ecco che mi scordo sempre E adesso davvero Ciao e al prossimo video Ciao